Coach Petrella, due vittorie sempre in rimonta mostrando grande carattere e grande energia. Oggi invece è una partita che Monza ha dominato dall'inizio alla fine e da fuori. La sensazione è stata proprio quella di una squadra che ha messo sott'acqua con la testa l'altra. Un problema di tipo tecnico, un problema di tipo mentale? Sì, assolutamente. È evidente da come è data la partita. Monza è stata padrona del campo fin dall'inizio, anche in termini di energia che ci abbiamo messo in campo. Questa secondo me è la prima cosa, la più importante, perché interpretare agonisticamente le partite è prima di tutto il mio compito e farlo capire. Evidentemente non sono stato bravo abbastanza nel far capire qual era il grado di difficoltà della partita. Dal punto di vista tecnico ci hanno messo sotto pressione moltissimo con la battuta. La sfida di battuta ricezione è stata costantemente a loro vantaggio. Ci sono stati due momenti solo all'inizio del secondo set e all'inizio del terzo, dove siamo stati capaci di reagire un pochino. E avevamo rimesso un po' quel momento del set un po' in equilibrio, ma per il resto loro su questa cosa hanno dilagato. E' mancata la ricezione, da lì l'attacco poi ha fatto molta fatica. Cioè si può avere un attacco superiore anche con queste difficoltà di ricezione? Sì, è mancata la ricezione, ma è mancata anche la battuta, tutte e due, perché è una sfida doppia. Noi non siamo riusciti nemmeno a mettere in difficoltà loro. Al di là degli errori, quando noi abbiamo centrato il campo, sono stati un turno di Tommaso, un turno di Max, importanti in battuta, ma per il resto loro hanno ricevuto spesso con la palla vicino a rete. E quindi è stata una doppia sfida da entrambe le parti, dalla loro parte. In attacco si può, ma è ovvio che quando ricevi così e si fa dura, così non riesci a mettere in difficoltà gli altri, devi fare una cosa straordinaria in attacco. E sarebbe stato veramente eccezionale riuscire a ribaltare una partita in attacco pur perdendo così tanto in questa sfida qui. Semplicemente a constatazione del livello di questo campionato, che su questa cosa mette sotto pressione tutte le squadre e noi dobbiamo capire la sfida e prepararci a reagire. Bruno prima diceva, è stata comunque una brutta figura, tra l'altro oggi c'erano ancora 4.000 persone, un dato non di poco conto, anche nel panorama italiano, insomma questi numeri non si vedono da nessuna parte, c'è una brutta figura e mancata energia, forse anch'io poteva accendere un po' di più, cioè al di là della tecnica c'è qualcos'altro che non ha funzionato? Sì, sì, condivido. Quello che dicevo prima, al di là dell'aspetto tecnico che è molto legato a quello di cui parlavamo prima, fin dall'inizio in campo non c'era energia da parte nostra né interpretare la partita e ci sarebbe dovuta essere perché sapevamo che era una partita tosta, quindi assolutamente condivido le parole del capitano e dovremmo essere bravi a riconoscerlo e a rimbucarci le maniche per ripresentarci la prossima volta al Palapanini e a Perugia la prossima settimana, cercando di migliorare anche questo. Alla luce comunque del campionato che continua, delle giornate che andranno avanti, non c'è niente, niente che salvate oggi? Allora, intanto anche quando si fanno delle brutte figure o comunque si fanno delle brutte partite bisogna imparare che cos'è che non è andato per essere capaci di reagire perché quando una cosa non ci piace bisogna sapere anche cosa fare per reagire, per non far più ricapitare questa cosa qui. Su alcune cose legate all'attacco, secondo me, soprattutto con la palla buona siamo andati meglio rispetto alle ultime partite però ne abbiamo ricevute talmente tanto poche di palle buone che è difficile da valutare. Che quel time out del 16-11 e del terzo set abbiamo visto arrabbiatissimo, ce lo puoi raccontare un po'? Sì, è l'ultimo tentativo che ha un allenatore per cercare di svegliare un po' l'animo, l'energia di cui parlavamo prima. Ci si prova per cercare di scuotere un pochino perché li vedevo proprio rassegnati come all'angolo di un ring di box a prendere solo dei cazzotti e basta.